Non di solo male vive il mondo, ma di ogni parola che viene da Dio, da nutrito di manda nel deserto il tuo Signore. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla nel suo insegnamento Guardatevi dagli iscrivi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoge e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro In verità, io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Cari amici, pace a tutti voi. Abbiamo ascoltato la pagina del Vangelo di Marco in questa liturgia della 32esima, domenica del Tempo Ordinario. Questa pericope evangelica si trova alla fine proprio dell'attività di Gesù a Gerusalemme. È composta da due parti. La prima parte che va dal verso 38 al verso 40 e la seconda parte che va dal verso 41 al verso 44. In questa prima parte, quindi i versi dal 38 al 40, Marco riporta una dura presa di posizione di Gesù nei confronti di scribi e farisei, che sono i rappresentanti ufficiali della legge. e qui ci sono quattro accuse, quattro forti accuse. Amano passeggiare, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi e i primi posti nella, eccetera, eccetera. Quindi c'è un'accusa nei confronti di questi scribi e di questi farisei che manifestano un'immagine, una facciata che nasconde invece qualcosa di brutto, di non coerente. Questi scribi e farisei esprimono quello che all'interno in realtà poi non c'è. Un'immagine falsa. Un'immagine falsata della realtà. E poi, ecco, ci sono due descrizioni delle cattive azioni di questi scribi. divorano le case, pregano a lungo, eccetera, eccetera. Allora c'è una messa in guardia da parte di Gesù. In questa prima parte, guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, eccetera, eccetera. Cioè si critica l'ambizione, la vanità di questi scribi, l'avidità, la voracità nei confronti delle vedove, una classe che fa parte dei poveri, l'ipocrisia, l'ostentazione della pratica religiosa. Si critica una pericolosa vanità. È l'errore che Gesù proprio invita a guardare per non cadere in questo tranello. Si nascondono questi scribi, questi farisei, dietro una facciata esteriore di pietà, che è solo affermazione di sé e non ricerca di Dio. Allora è una messa in guardia anche per noi. Non possiamo noi fare lo stesso errore di scribi e farisei. In altre parti del Vangelo accuserà Gesù scrive e farisei apostrofandoli come ipocriti. Sono questi, dice Gesù, come sepolcri imbiancati, belli di fuori, ma dentro pieno di ogni sorta di putridume. Allora è una falsa facciata, è una falsa immagine. In realtà dentro la parte interiore non corrisponde a quello che loro danno a vedere. Ecco l'errore, ecco la mancanza di coerenza ed è il rischio anche per noi amici, per noi cristiani, per noi che sicuramente spesso cerchiamo, ci sforziamo di non dare scandalo, ma nello stesso tempo la nostra vita interiore non corrisponde a quello che noi in realtà siamo. Ecco l'errore di Scribi e Farisei, ecco l'errore di molti di noi cristiani. Allora dobbiamo così come comunemente noi diciamo aggiustare questo tiro. la seconda parte invece dà proprio l'immagine di un'altra lezione che Gesù fa proprio per recuperare questa immagine negativa. Questa immagine negativa che Gesù condanna. Gesù conclude la prima parte infatti i versi 38 al verso 40 con minacce di dura punizione e di vera e propria condanna. Essi riceveranno una condanna più severa. Sicuramente è qualcosa che ci fa stringere il cuore quando noi ascoltiamo questa condanna. sicuramente è un'azione che ci fa prendere distanze. e le 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 le